Con questo tutorial andiamo a vedere come compilare la sezione delle preferenze. Ricordiamo che ogni docente che chiede domanda di mobilità ha 15 preferenze da esprimere e che le preferenze possono essere preferenze puntuali, cioè di scuola, o preferenze sintetiche di comune, distretto oppure provincia. Andiamo sulla voce preferenze, apriamo e vediamo che si possono inserire al massimo 15 preferenze. Le preferenze sintetiche hanno la possibilità di avere alcune disponibilità da poter dare, ma non può essere da dare questa disponibilità solo per alcune preferenze, ma per tutte le preferenze sintetiche. Sarebbe la disponibilità all'insegnamento presso una scuola ospedaliera di tutte le preferenze sintetiche espresse, o la disponibilità all'insegnamento presso una scuola carceraria di tutte le preferenze sintetiche espresse. Come d'altronde la disponibilità evidentemente di dare, di insegnare alle scuole serali. Non si può dare a una preferenza sintetica sia un'altra no, a tutte quante. Se non si volesse dare preferenza sintetica a questa disponibilità, si dovrebbe scegliere il codice della scuola serale, ma dunque dare una preferenza di carattere puntuale. Poi c'è la possibilità anche, come si vede, di scegliere o le carattere orarie dello stesso comune, oppure anche tra comune diversi. Chiaramente lo si mette questa, oppure questa. Non sono entrambe esprimibili, è del tutto ovvio. Questa comprende entrambe, questa comprende solo quelle dello stesso comune. Oppure si può anche decidere di non esprimere carattere orarie. Allora il sistema vaglierà unicamente le carattere intere, ma se ci fosse stata una carattere orario per cui si avesse avuto titolo e punteggio per averla, non esprimendo la voce carattere orario non verrà assegnata. Andiamo a vedere come si aggiungono le preferenze. Si fa alla voce aggiungi preferenze, si clicca e si sceglie la regione e poi la provincia di riferimento. Per esempio, se vado a scegliere Calabria e poi scelgo la provincia di Reggio Calabria, facendo conferma mi si aprirà qua sotto uno schema che parte dalla provincia e poi ha i distretti. Quindi ogni distretto, cliccando sul più, per esempio il distretto 30, che è il distretto di mia titolarità, quello del comune di Reggio Calabria, mi aprirà comune di Reggio Calabria. Se faccio ancora più, otterrò tutte le scuole del comune di Reggio Calabria esprimibili. Attenzione, perché è molto importante quest'anno, la novità è che non troverete più i codici puntuali delle scuole che sono state accorpate ad altra scuola, perché il codice diventa unico. Per cui, se io volessi esprimere la scuola, liceo scientifico Alessandro Volta, cliccando qui, la preferenza è stata aggiunta. Per cui, poi, posso procedere con altre preferenze, tipo, ad esempio, il Raffaele Pira Ferraris. Clicco qui ed è stata aggiunta pure questa. Vedete, se, come dicevo prima, voglio un corso serale, se clicco qui, io avrò il corso serale, ma come scelta puntuale. Se invece voglio una scelta sintetica, e per esempio, chiudendo queste finestre e andando su una scelta di comune, per esempio, vado al comune di Villa San Giovanni, clicco qui e avrò il comune di Villa San Giovanni. Attenzione, però, che avendo io un ricongiungimento su un comune come quello di Reggio Calabria, prima di cliccare il comune di Villa San Giovanni, avendo il riferimento, andrò necessariamente a cliccare il comune di Reggio Calabria e solamente dopo potrò dare il comune di Villa San Giovanni. Potrò vedere in alto come sono disposte le preferenze che ho scelto. Ecco qui in ordine delle preferenze che ho scelto. Vedete, qui c'è l'ordine, diciamo, la prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta. Massimo 15 preferenze. Tra scuole, come vedete qui, comuni, e posso anche inserire alcune province. Quante province posso inserire? Ne posso inserire più di una, ovviamente. Anche 15 province, volendo. Massimo, chiaramente. E per indicare la provincia, per avere la provincia di riferimento, basta andare nella voce provincia, cioè cliccare qui. Qui avrò tutte le scuole della provincia di Reggio Calabria. Se voglio un'altra provincia, per esempio sempre della Calabria, potrò scegliere la provincia di Vibo Valencia. Cliccando qui avrò, anche in questo caso, su Vibo Valencia, farò un conferma, potrò scegliere la provincia di Vibo Valencia e mi comparirà questa preferenza aggiunta qui. Potrò scegliere anche la provincia di una regione differente dalla Calabria. Per esempio, se vado sulla Sicilia e voglio la provincia di Messina, cliccando Messina e facendo sempre conferma, otterrò così anche la provincia di Messina. Potrei chiedere, ma essendo magari troppo ampia, posso restringere chiedendo il comune di Messina e magari il comune di un altro comune di distretto differente. Per esempio, il distretto 30 potrei prendere Mistretta o Santo Stefano di Camastra, piuttosto che nel distretto 36 Furcisiculo o Santa Teresa di Riva. O nel distretto 35, per esempio, potrei scegliere Taormina, fare Taormina, Furcisiculo e Santa Teresa di Riva. Ecco, in questo caso, come vedete, ho una serie di preferenze in più. Ecco, questo è il modo per compilare la sezione delle preferenze facendo una scelta che sia oculata. Ricordiamo che la scelta puntuale su scuola vincola il docente a rimanere tre anni se, diciamo, soddisfatto in quella preferenza puntuale, mentre quella di comune, provincia e distretto non sono vincolanti. Cioè, il prossimo anno si potrebbe rifare domanda. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.